Ripresa dei lavori in Casa Pescara al netto dei trecansi e risultati positivi al Covid nella tornata di tamponi effettuata ieri, due giocatori e un componente dello staff. Tutti gli altri negativi e gli ordini di Gaetano Oteri pronti a preparare il primo impegno della stagione che sarà quello di Pesaro del 15 gennaio, salvo ulteriori slittamenti per la situazione epidemiologica del Paese dopo il posticipo già deciso al 2 febbraio della seconda giornata di ritorno. Più tempo a disposizione per inserire il neoacquisto Carlo Delizio ha già salutato la truppa Guido Marilungo destinato al teramo dopo il rientro anticipato dal prestito alla Ternana. Intanto si torna a parlare nelle ultime ore del progetto di restyling dello stadio Adriatico Cornacchia. Nel corso della trasmissione Replay il sindaco Carlo Masci e il presidente Daniele Sebastiani hanno confermato che lunedì prossimo 10 gennaio ci sarà un incontro in comune che fa seguito a quello dello scorso 7 dicembre cui aveva preso parte anche il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo Andrea Bodi. Abbiamo stabilito un altro incontro per il 10 dove ci vedremo con la soprintendenza che io ho chiamato direttamente alla loro presenza. Devo dire che la dottoressa Mencarelli è stata gentilissima. Abbiamo fissato questo incontro perché il tema dello stadio è legato alla valorizzazione di alcuni aspetti storici dell'impianto e quindi il ragionamento deve essere fatto con la soprintendenza. Mi sembra che ci siano aperture rispetto al passato. Oltretutto a Bodi ha portato anche degli esempi di stadi ben più prestigiosi del nostro prestigioso stadio atriatico che sono stati riqualificati, ci sono dei progetti in corso e in quegli stati la soprintendenza ha affiancato i comuni e le società che sono intervenute sugli stadi. Quindi se sono rose fioriranno però il percorso lo abbiamo iniziato. Lo stadio è importante perché comunque è la casa della società di calcio e se lo stadio è confortevole, se lo stadio dà la possibilità a tutti di venire anche se è brutto tempo dà la possibilità a tutti di avere un parcheggio nelle immediate vicinanze se ha tutti i comfort sicuramente aiuta anche il club a credere ed è assolutamente uno dei motivi di appeal che questa società può avere nel momento in cui deve andare sul mercato a cercare soci importanti o proprietari nuovi che possano venire a pescare avendo anche un progetto perché poi, parliamoci chiaro, non è che gli imprenditori che arrivano dall'altra parte del mondo vengono qui perché siamo belli, vengono qui perché comunque hanno in animo anche di fare business quindi se c'è questa possibilità magari vengono a pescare se non c'è va in un altro posto dove c'è questa possibilità grazie a tutti